Allora, benvenuti a questa prima edizione del Science Camp, che è una specie di, diciamo, bar camp ritrovo di blogger scientifici. In realtà ci conosciamo quasi tutti, però molti di noi non si sono mai visti in faccia, ci siamo visti in faccia per la prima volta oggi ed è decisamente imbarazzante perché insomma siamo abituati a parlarci su Facebook, via Twitter, nei commenti del blog e quindi vedersi in faccia è sempre un po' un'esperienza che lascia un po' stranetti. Io farò il cerbero della situazione, nel senso che mi è stato dato come ruolo quello di tenere i tempi e passare la parola a tutti presentandoli, cercando di descriverli brevissimamente. Avete qua di fronte a voi alcuni tra i migliori blogger scientifici della blogosfera italiana gli altri stanno nel pubblico e sappiamo che sta per arrivare un pullman, un pullman di... ah, più vicino, ok, ok, sappiamo che sta per arrivare un pullman di pubblico, ci dicono, trasportati dal... anche? voglio... ah, vabbè sì, comunque erano da Severgnini, li portano qui, quindi arriveranno ad un certo punto noi iniziamo e poi loro si inseriscono, eccoli, forse stanno arrivando, ciao, benvenuti. Allora io do un attimo la parola a uno degli ideatori di questo Science Camp che ci dirà in un minuto, dovevo fare il ruolo di Cerbero, perché ci siamo trovati qui, come è nata la storia. Lui è Marco Ferrari, nella blogosfera lui è l'Eucofea, però insomma, ma Marco, nella vita reale, giornalista scientifico di Focus, diciamolo. Vai Marco. Buongiorno, grazie a tutti, si sente? Sì, si sente, sento io. E' una impresa piuttosto magmatica quella di riuscire a mettere insieme quelli che noi consideriamo alcuni tra i migliori blog scientifici italiani perché abbiamo voluto cercare di tirare, di far venire a galla non tanto il fatto che noi siamo i migliori, scusate, che loro sono i migliori, quanto il fatto che ci sono dei problemi, delle discussioni, è un momento molto particolare della blogosfera, adesso non voglio parlare di nuovi media che hanno detto che i blog non devono essere pagati perché sono delle persone che tanto, anche se non sono pagati, non cambia niente. Abbiamo voluto mettersi insieme in modo da tirar fuori i problemi, essenzialmente. Quando poi, nel cinque minuti che utilizzerò io, cercherò di non dire quanto è bello fare il blog, ma cercherò di dire quanto è complicato. Io spero che anche gli altri mi seguano e cerchino di costruire una specie di affresco di quello che sta accadendo in Italia, nel piccolo universo della blogosfera scientifica, piccolo ma importantissimo, per tantissime ragioni che non possiamo dire qua adesso, non tanto per fare quello che molti hanno definito o avrebbero voluto definire un manifesto, lungi da noi, vero, signora, l'idea di fare dei manifesti. Vogliamo soltanto buttare delle provocazioni, dire qual è lo Stato, dire quali sono i problemi, ancora una volta l'ho detto, sono un pessimo giornalista, ho ripetuto le parole, e dire come potrebbero andare le cose. Ognuno ha le sue idee e se le idee alla fine convergeranno verso uno o pochi modi di ragionare e di lavorare, potremmo dire che questo barcamp è servito veramente a qualcosa. Io sono convinto che servirà senz'altro a qualcosa e sono convinto che ne verrà fuori qualcosa anche di, come dicevo all'inizio, di assolutamente magmatico e più che dei blog, mi sembra un blob, però alla fine avrà una realtà. Io volevo soltanto citare, al di là della mia modesta persona che non ha fatto praticamente niente, chi ha veramente tirato in piedi e organizzato questa cosa, lo faccio in ordine di importanza, spero che non si offenda nessuno. Cioè, Peppe Liberti che è lì, mezzo malato, che è malato ma nonostante tutto ha voluto essere presente, grazie. Stefano Dallacasa che è qua, eroico con la maglietta in questo tempo, Beatrice Mortino e il sottoscritto. Io adesso lascio la parola a Beatrice che dovrebbe introdurre tutti i blog e far dire a loro qualcosa di importante. Allora, intanto, qua avete di fronte scienziati, comunicatori, scienziati ibridi, comunicatori ibridi, insomma c'è un po' di tutto, ognuno cercherà di raccontare la sua esperienza e di portare quelli che sono, secondo loro, i problemi che hanno incontrato, magari delle possibili soluzioni, non lo so, vedremo dopo nella discussione. Iniziamo con uno scienziato, iniziamo con uno scienziato che sta chiacchierando, ma è lui, chimico ma in realtà botanico, anzi botanico ma in realtà chimico, si occupa di erbe medicinali, anzi officinali, scusa, ha un blog seguitissimo che si chiama Meristemi e lui è Renato Bruni, ha dieci minuti di tempo per parlare. Sarò breve e buongiorno a tutti ovviamente. I miei dieci minuti ruotano intorno a una domanda e la domanda è perché un ricercatore universitario che in teoria avrebbe delle cose apparentemente più importanti da fare, dedica una parte spesso anche consistente del suo tempo di lavoro o del suo tempo libero a editare un blog scientifico. Questa domanda ha alcune risposte positive e alcune negative, quelle negative le accenerò e lascerò queste croste da grattare a chi mi segue, però questa domanda parte in un momento in cui nella ricerca, nelle cose che vengono richieste da un ricercatore, si assiste a un certo cambiamento. Siamo abituati, un po' come immaginario collettivo, al ricercatore che studia e lavora in maniera un po' autistica, un po' isolata, un unico argomento e lo approfondisce in maniera più o meno ossessiva. Quindi il modello, chiamiamolo Alfieri Leopardi, lo mettiamo un po' in cantina e quello che viene chiesto è un modello un po' più capace di relazionare, più capace di collegare argomenti e discipline diverse e quindi un argomento molto più interattivo, un modo di affrontare la propria professione molto più interattiva, molto più dinamica. Seguire, curare un blog in questo senso è automaticamente già un modo di cercare di creare link e collegamenti tra argomenti e discipline attigue alla propria. È anche un sistema altamente efficiente per avere un pretesto, magari forse anche basato in parte sulla vanità, per continuare a aggiornarsi, ad approfondire quello che si fa e imparare un po' meglio a spiegare le cose che si sono studiate e che si sono imparate. Abbiamo tutti avuto probabilmente dei docenti che erano degli eccellenti ricercatori, dei grandi luminari nella loro disciplina, ma erano al tempo stesso dei pessimi insegnanti perché non avevano mai esercitato una vera pratica nel saper comunicare, nel saper spiegare il sapere che avevano accumulato. Un blog scientifico è anche, qui, una metafora che uso spesso, è una specie di macchinetta del caffè amplificata. La macchinetta del caffè è una specie di luogo o non luogo più o meno mitico, mitizzato in cui si porta la propria idea, il proprio pensiero, la si mette a confronto, quando ancora è un po' in nuce, ancora un po' acerba, con la prospettiva diversa che i colleghi ci possono offrire. Un blog diventa una macchinetta del caffè molto amplificata perché permette di avere questa specie di revisione tra i pari, prima della revisione tra i pari, mentre stiamo lavorando. Però un punto, che è il mio punto personale, che vorrei portare qui, è che curare e gestire un blog è anche, per uno scienziato, per un ricercatore, un modo per ottemperare in una maniera diversa e auspicabilmente migliore a quella che è la sua professione. Lo faccio con un esempio di un'esperienza personale. In Sud America le università statali, in genere, che studiano, fanno indagini antropologiche o di etnobotanica sulle popolazioni indigene andine o amazzoniche, hanno questo obbligo, dovere, di andare a restituire il sapere che hanno accumulato e raccolto durante le loro ricerche nelle comunità. Quindi vanno presso le comunità, intervistano gli sciamani, intervistano la vecchietta che usa piante per curarsi, e poi sono tenuti ad andare a spiegare, quindi a trovare un modo per comunicare con le comunità indigene, andare a raccontare le informazioni che hanno raccolto e risocializzarle. E quindi spiegare come funziona la scienza, come la scienza raccoglie le informazioni e riuscire a spiegarle non più tra pari, ma anche ad altre persone. Questo dà via a delle dinamiche diverse, perché impone al ricercatore di essere sottoposto a una specie di revisione, non più tra pari, ma una specie di revisione eterologa. Deve riuscire a rispondere a delle domande che vengono poste in una maniera per lui non convenzionale e deve riuscire a trovare un canale, direi quasi empatico certe volte, per riuscire a veicolare quelli che per lui di solito sono solamente numeri. Gestire e seguire un blog, soprattutto quando uno lavora con progetti a finanziamento pubblico, può essere una strategia per restituire alla collettività quello che il contribuente ha dato al dipendente universitario. E può essere un canale per riuscire a spiegare meglio quali sono le regole della scienza, quali sono i suoi tempi e quali sono i modi con cui lavora. Ovviamente non ci sono pranzi gratis, questo non è una cosa che riesce sempre in maniera automatica per diversi motivi. Il primo, per un ricercatore universitario comunicare non è il suo lavoro. Questo vuol dire che per farlo ruba una parte del tempo e quindi internamente da dentro all'accademia questo può essere visto in negativo, ma soprattutto non è il suo lavoro perché non ha mai avuto una formazione in termini di comunicazione della scienza e quindi deve riuscire a trovare un modo per allargare il giro delle proprie competenze e conoscenze e deve tenere presente che questa operazione lui la sta facendo da dilettante. Altro aspetto che è potenzialmente critico è che il ricercatore spesso può sforare nella propria operazione, ovvero può travalicare certe regole, non della comunicazione della scienza ma della creazione della scienza, può ad esempio iniziare a disseminare dati o distribuire dati prima che questi siano stati sottoposti in una revisione, quindi prima che questi dati abbiano una base di certezza realmente oggettiva e questo in casi macroscopici, i batteri marziani o i neutrini più recentemente avviene o può avvenire, può avvenire anche a un livello molto più di base e meno appariscente a livello di media, ma avviene e soprattutto il ricercatore ha diversi aspetti sui quali, ripeto, è un po' un dilettante. Uno di questi è che il ricercatore universitario non sa bene come gestire in termini di copyright o in termini di proprietà intellettuale le informazioni, quello che scrive e come la mette in rete, che credo che sia un argomento che viene approfondito da chi mi segue tra breve. Sono stato nei dieci minuti. Hai già finito? Caspita, no, devi parlare ancora per sei minuti. Allora, da uno scienziato puro a un'altra scienziata, zoologa, che lavora a Londra, Lisa Signorile, probabilmente la conoscete come Orologiaio Miope, è uno dei blog scientifici più seguiti in Italia, ha appena pubblicato un libro tratto dal suo blog, ha una schiera di fan che mi dicono, ma forse non dovevamo dirtelo perché adesso ti imbarazzerei tantissimo, che sono qui, quindi insomma sappi, e lei scrive di animali strambi, però oggi ci parla di altro e lascio la parola a lei, Silvia, vai. Grazie. Niente animali strani, un po' di numeri. Allora, il motivo per cui ho deciso di dare i numeri stasera è perché mi sono capitati un paio di incidenti particolari. Il primo incidente mi è successo quando un mio testo è stato preso, ritagliato ed utilizzato per dimostrare l'esistenza degli extraterrestri. e era possibile. Adesso diremo perché. Il secondo incidente è stato di natura diverso, il mio testo è stato preso da un altro blogger, copiato interamente con citazione, e sotto è stato scritto, i testi di questo blog appartengono all'autore del blog, quindi non a me che l'avevo scritto, ma a chi l'aveva incollato. Chiaramente questo mi ha fatto pensare. Soprattutto chi scrive blog scientifici non comunica solo opinioni, spesso comunica anche fatti. Comunicare fatti significa che è importante rendere i testi disponibili a chi li voglia citare, ma allo stesso tempo significa anche tutelare i propri diritti. E allora mi è venuta la curiosità di capire i blog scientifici che tipo di protezione dall'abuso dei propri testi hanno. Allora ho preso un campione di 48 blog scientifici e ho visto che funzionava così. Del mio campione, sei blog avevano un copyright assoluto dovuto al fatto che appartenevano a testate in qualche tipo giornalistica come Wired, Focus e così via. In basso c'è scritto copyright appartiene a... Io non capisco se io voglio citare un passaggio da quel blog, francamente, come faccio e chi contatto. Però c'è di peggio, in quanto anche altri sei blog del mio campione, non appartenenti a testate giornalistici ma privati, mettono lo stesso vincolo, copyright di questo blog. Ora, se io voglio prendere un passaggio che mi sembra interessante, che faccio non lo so. Ci sono anche però persone che condividono un pochino di più e qui arriviamo a probabilmente il migliore strumento che ha un blogger per tutelarsi ma condividere che è la licenza Creative Commons. Il problema è che è un inferno. Primo, se avete una licenza Creative Commons, scrivetelo. In molti casi sono arrivati a capire qual era la licenza al quinto click, alla quinta pagina che sfogliavo del blog perché se voi volete avere una licenza Creative Commons, scrivetelo chiaro da qualche parte perché altrimenti è come se non ce l'aveste. Allora, del mio campione il 19% aveva una licenza Creative Commons restrittiva che significa che bisogna attribuire il testo al blogger e questo è corretto, è il minimo. La licenza d'uso prevede che non si può commercializzare quel testo, quindi io non posso prendere un brano o un intero post da quel blog e rivendermelo, o metterci su insieme un libro e rivendermelo. E soprattutto prevede l'uso di una licenza non derivata. Che cosa significa? Significa che non posso estrapolare passaggi, quindi se voglio usare un posto i dinosauri per dimostrare l'esistenza degli alieni con una licenza non derivata, non posso perché sono obbligata a citare l'intero passaggio. In realtà questa è l'opzione migliore. Ci sono anche i generosi. Del mio campione il 15% aveva una licenza Share Alike. Share Alike significa posso estrapolare brani, che è una cosa bellissima. Posso solo citare il frammento che mi interessa, ma questo espone a rischi. Quindi se avete una licenza Share Alike, pensateci che i vostri testi potrebbero essere usati dai creazionisti, da quelli che vogliono dimostrare che la terra è piatta, da quelli che vogliono dimostrare l'esistenza degli alieni. Il 25% del mio campione è costituito da persone che non hanno nessun tipo di licenza sul proprio blog. Non vi dico chi sono, ma potete prendere tutti i testi da questi blog e farci assolutamente quello che vi pare. Il 4% si limita a chiedere attribuzione. Potete fare quello che volete ai loro testi, purché ci scriviate questo testo appartiene a. E poi ci sono anche le persone confuse che scrivono a pagina 15, al quindicesimo click del loro blog. Questo blog è protetto da una licenza, ma non si capisce che licenza e come. Quando ho fatto questo lavoro, tra l'altro sono impazzita per trovare il tipo di licenza di ogni blog, perché spesso veramente non è chiaro dove posizionate le vostre licenze. Se io voglio usare un passo o un intero brano del vostro blog, non mi fate impazzire, per favore. Scrivetemelo chiaro, caratteri cubitali che sono mio, penso che sia chiaro dal mio blog che sono cercata. Per favore, scrivetemelo grande e sotto, se non volete che io usi i vostri passaggi. Faccio anche presente, per coloro che usano un copyright, che se voi utilizzate brani da altri blog o da Wikipedia che ha una licenza sharealike, quindi potete estrapolare brani sharealike. Sharealike significa condividi come la fonte da cui hai preso il testo. Se prendete pezzi da Wikipedia, dovete condividerli con le modalità d'uso di Wikipedia, cioè dovete condividere, quindi poi non potete bloccare quel passaggio come vostro copyright. Questo è illegale sotto l'uso delle licenze Creative Commons. Quindi pensate un pochino a che tipo di licenze usare e come usarle. E questo per quanto riguarda le citazioni che voi volete, vengono fatte dai vostri blog. Siccome però noi stiamo parlando di blog scientifici, noi abbiamo bisogno non solo di fonti da altri blog, ma abbiamo anche bisogno di fonti dalla letteratura scientifica. Peppe Liberti ha messo su uno strumento bellissimo che è il research blogging. Possiamo citare le nostre fonti e condividere il modo in cui abbiamo utilizzato la fonte semplicemente con un paio di click. Research blogging è uno strumento che tutti i blogger scientifici dovrebbero usare, ma ho chiesto a Peppe di darmi un po' di dati su quanto e come vengono usati i link su research blogging. Allora, innanzitutto bravi biologi, colleghi, che usate research blogging perché il 23% di tutti i tag erano biologi, mentre i matematici non usano research blogging e i chimici pochissimo, i fisici un po' di più. Soprattutto però il research blogging è uno strumento che ha cominciato bene e sta finendo male. A gennaio 2011 c'erano 62 tag su research blogging, a febbraio 2012 ce ne erano 12. Quindi o i blogger hanno smesso di citare le loro fonti o non usano Peppe scientifici come loro fonti oppure semplicemente non lo mettono su research blogging. È un peccato perché abbiamo uno strumento internazionale e non lo usiamo. Ultima cosa perché mi dicono di stringere come fare per prendere paper, se i paper sono a pagamento? I paper di Elsevier costano 40 dollari l'uno. Quindi se io voglio leggere cosa c'è scritto nell'ultima scoperta internazionale che voglio citare e non voglio dare 40 dollari Elsevier, cosa faccio? Semplicemente non li do. Ricordo che c'è un boicottaggio internazionale di Elsevier perché le condizioni d'uso sono inaccettabili. Usate papers da Wiley, da qualunque altra fonte. Io personalmente aderisco al boicottaggio di Elsevier perché la comunicazione, quello che noi vogliamo, noi vogliamo che le scoperte scientifiche vengano divulgate. Elsevier fa esattamente il contrario, chiude e limita la conoscenza scientifica. Quindi il messaggio da portare a casa è per favore usate una licenza Creative Commons, non mettete copyright se volete che qualcuno possa citare quello che scrivete. Voicottate il Sevier se è possibile e usate Research Blogging. Grazie Lisa. Spieghiamo una cosa magari per chi non è del giro scientifico. Noi che ci occupiamo di scienza siamo un po' fissati con le citazioni e con le fonti soprattutto, per cui ogni nostra affermazione in teoria dovrebbe essere fondata e quindi avere un qualche tipo di riferimento in quella che noi chiamiamo letteratura scientifica. Quindi è un punto che per noi è molto importante. Domanda, le domande poi le facciamo tutte alla fine, però una domanda su gli alieni alla fine li hanno trovati? Come hanno fatto a dimostrare l'esistenza degli alieni usando un tuo pezzo? Mi prendo il tempo di farti una domanda visto che sono il cerbero. perché ho utilizzato un mio post su un tipo di dinosauro molto intelligente con un cervello grande dimostrando che erano gli antenati dei grigi e quindi i grigi hanno preso l'astronave, sono andati via e hanno lasciato questi dinosauri che si sono estinti sulla terra ma non altrove. è stato molto creativo perché mi ha citata e ha preso tutti i passaggi interessanti per dire che i grigi tutto sommato sono dinosauri e quindi esistono. Bellissimo. È bellissimo, molto creativo. Andarne orgogliosi. Quindi dai grigi passiamo alle eminenze grigi, cioè al rapporto tra blogger e accademici. A parlarci, aspetta, ti presento Franco Rosso di Chimicare, che è un portale di divulgazione della chimica e lui appunto ci parlerà di come si interfacciano i blogger che magari non sono accademici con l'accademia e quindi con le fonti di cui ci parlava Lisa prima. Allora, innanzitutto volevo rispondere anch'io, o meglio argomentare, a questo problema del research blogging, soprattutto della citazione delle fonti. Il tipo di blogging che viene portato avanti storicamente dai due blog dentro Chimicare in realtà è di tipo soprattutto formativo e didattico. Non capita praticamente mai che noi dobbiamo descrivere, citare o argomentare una pubblicazione, una scoperta recente. Di conseguenza non sapremo neanche a un certo punto che cosa citare come bibliografia. Dovremmo citare il libro delle scuole superiori o del bienio dell'università. Sono cose che appartengono al dominio assolutamente comune, non solo del chimico ma di chiunque abbia studiato un argomento scientifico. Ed è stato anche il motivo per cui, mio malgrado, perché mi era stato proposto, non abbiamo potuto aderire a pieno a questo programma che trovo assolutamente meritevole da seguire per probabilmente un'altra tipologia di blog. Non so se sei d'accordo. No, va bene. Allora poi ci mettiamo d'accordo su come potrebbe. Ci mettiamo d'accordo su come potrebbe. Invece, riguardo il mio intervento, io rappresento in qualche modo un caso anomalo. Io come persona che adesso descrivo e quindi poi anche il percorso che abbiamo seguito. Il mio intervento è finalizzato proprio a illustrare le motivazioni che ci hanno portato lungo questo percorso. Allora, io al tempo stesso sono un navigatore del web che lo utilizza sia per interesse personale che per professione. Sono un blogger scientifico, sono un ricercatore chimico ma non accademico. Uno di pochi ancora che lavora al di fuori dell'ambiente universitario, ma più nel settore privato. E come punto di arrivo alla fine di un percorso di considerazioni e di un paio d'anni di esperienza come blogger, alla fine insieme ad altre persone ho deciso, mi sono trovato quasi costretto per risolvere alcune problematiche, a costituire un'associazione culturale che presiedo ed è l'associazione culturale Chimicare che ha preso il nome dal primo blog. Quindi qui assistiamo a un caso strano dove praticamente si è passati da un blog personale a un blog corporativo, perché diverse altre persone si sono aggiunte collaborando e scrivendo su questo blog e alla fine questo blog con tutte le esperienze, altri blog insieme, mettene insieme giornalisti, mettene insieme giornalisti scientifici, esperienze didattiche, quindi non erano tutti blogger. Alla fine si è costituita un'associazione culturale per la divulgazione della chimica, la promozione dell'immagine della chimica e quello che noi diciamo la diffusione della cultura di base della chimica tra la cittadinanza e tra i non addetti ai lavori. Quindi dicevamo, questo ha potenziato l'attività dei blog, da uno iniziale possono diventare due, attualmente abbiamo aperto tre siti diversi, più i social, quindi diventa anche difficile numerare di preciso quante linee di blog ci sono, perché poi se considerare o non considerare blog alcune. Però cos'è che ci ha portato alla fine a questo percorso? Ecco, attualmente siamo una quarantina di iscritti, come iscritti proprio all'associazione, non tutti sono attivissimi nel campo della divulgazione, altri magari sono semplici furitori che hanno preferito però dare il loro contributo, altri sono insegnanti che al loro modo divulgano anche loro. Allora, quello che ci ha portato a questo punto è il notare come in Italia il soggetto privato, come può essere un blogger nel nostro caso, che non è un blogger di testata, come libera iniziativa personale, ha delle difficoltà quando vuole in qualche modo rapportarsi in un modo un attimo più formale, e in alcuni casi non è una scelta così un gribizzo, ma è obbligato a farlo in modo un po' più formale, nei confronti di quelli che abbiamo chiamato i grandi soggetti istituzionali. Diventa un po' difficile definire esattamente cosa siano. Sono quegli enti che nel mondo scientifico, soprattutto italiano ed europeo, della vecchia Europa, esistono da decine a volte centinaia di anni, che dovrebbero essere super partes, dei quali fanno parte parecchie persone, che sono considerati opinion leader, che in qualche modo il loro sigillo di garanzia sopra, anche tra l'altro no profit, di solito almeno in piccola parte, il cui sigillo di garanzia è quello che dovrebbe dare valore alla loro comunicazione. Essenzialmente io penso gli Atenei, le grandi società scientifiche, le Accademie, da un certo punto di vista anche le riviste peer-per-view, che a parte il fine lucrativo però fanno anche un'opera sociale in questo di diffusione delle informazioni. Allora, nei confronti di questi soggetti, fuori dall'Italia, ad esempio negli Stati Uniti, il blogger viene valutato, valorato, viene a volte consultato, viene perlomeno utilizzato come mezzo con le sue limitazioni, ma tutto sommato credibile. In Italia questo solitamente non capita, o se capita succede molto molto a margine, sta iniziando a succedere appena adesso, se non magari dopo decine di anni di esperienza. Questo completamente al di là della bravura tecnica, professionale, comunicativa dei singoli blogger. Ci siamo accorti che uno di pochi modi per fare questo era quello non tanto di potenziare il modo di riferirsi, di sviluppare un referaggio tra un blog e l'altro, come giustamente si sta facendo, perché questo in qualche modo diventava una forma autoreferenziale sul mondo del blog stesso. Quindi chi era a bezzo al mondo internet un po' più in modo evoluto rispetto a chi accende il computer solo per acquistare il biglietto aereo, in questo caso riusciva a capire il valore di questi simboli e di queste citazioni, di questi valori. Il comunicatore, lo spettatore esterno, tipo rappresentante di queste eminenze grigie che abbiamo detto, ma allo stesso modo anche il navigatore occasionale o meno critico e che una cosa sia citato o no dal research blogging eccetera, che cos'è alla fine? Probabilmente il modo stesso con cui arriva ai nostri post alla fine rischia di essere più il link che viene magari da una rivista di gossip in certi casi. Quindi parallelamente al nostro percorso avvalorato c'è tutto un mondo parallelo, interi network dedicati alle pseudoscienze, interi network dedicati al parlare del più e del meno, appunto dei gossip con un piccolo riferimento, magari uno spin off che punta al di fuori verso la scienza. E c'è il rischio di non riuscire quindi a intercettare da un lato in modo corretto le grandi istituzioni, dall'altro in modo corretto il navigatore accidentale o sproveduto. Uno dei pochi modi che abbiamo trovato e sembra che sortisca successo è quello di costituirci in associazione culturale. In questo modo riusciamo e l'abbiamo fatto a entrare all'interno di festival, di manifestazioni, di eventi anche territoriali, di pubblicazioni cartacee, nonostante che dietro oltretutto non abbiamo né una testata giornalistica e né un ateneo che in qualche modo ci sponsorizzi. È un percorso che io mi sento di suggerire anche ad altre persone ed effettivamente noi ci troviamo in un momento in cui se qualcuno vuole eventualmente unirsi alla nostra attività noi siamo assolutamente pronti a farlo. Bene, quindi il messaggio, riassumo proprio brevissimamente, evitiamo di parlarci troppo addosso, cerchiamo di guardare anche fuori dal nostro piccolo mondo e poi proponi una soluzione ma magari ne discutiamo dopo perché credo che ci siano altre opinioni proprio su questo argomento qui. parlando di aprirsi all'esterno e di comunicare con chi non è come noi, diciamo, arriva il tema del rapporto tra scienziati e giornalisti e per cui, perché non dar la parola a uno che è stato scienziato e che adesso è giornalista e che sostiene che le due realtà difficilmente si riescano ad incontrare, si possono incontrare. Marco Ferrari, Leucofea. Grazie, sì sono stato scienziato, mi vergogno anche un po' in effetti, ora sono giornalista e da qualche, come? Ho smesso, sì, sono Marco, da qualche anno ho smesso, non bevo più e non faccio più lo scienziato, da qualche anno, parecchi anni purtroppo, sono giornalista e da molti meno anni sono anche blogger, quindi diciamo sono un po' una chimera intellettuale, bella, questa me la segno. E secondo me in tutti questi anni di lavoro sono arrivato alla conclusione, un po' triste devo essere sincero, ma secondo me molto interessante dal punto di vista delle possibili soluzioni che non ho, o meno non ho comode, che il mondo della ricerca vera, profonda della scienza e il mondo della comunicazione, non della comunicazione specializzata, non di riviste come Focus, come altre riviste, come Focus e basta fondamentalmente, il mondo della comunicazione hanno delle grosse difficoltà a parlarsi, non perché ci siano delle difficoltà di linguaggio, in fondo bene o male l'italiano lo capiscono tutti, ma perché ci sono dei problemi, e qui posso usare una parolaccia Cerbero, dei problemi filosofici. I problemi filosofici sono derivati dal fatto che quello che uno scienziato vuole mettere sulla carta, o meglio adesso online, e quello che un giornalista vuole mettere sulla carta, o adesso online, sono due cose molto diverse. Lo scienziato, e lo si capisce, lo si riconosce anche dal linguaggio che si usa nella letteratura scientifica, è un linguaggio pieno di dubbi, pieno di potrebbe, pieno di sarà, pieno di non siamo certi. Il giornalista vuole la notizia, e la notizia è una notizia certa, sicura, un qualcosa che non deve avere al suo interno dei dubbi del... faccio un nome a caso, questa ragazza ha ammazzato questa qua, ma potrebbe anche non essere perché... no, ci si ferma subito. Ci sono dei problemi da questo punto di vista, proprio di impostazione filosofica dell'emissione di comunicazioni, emissione di notizie, chiamiamole così in linea generale. Un'altra grossa difficoltà che i giornalisti incontrano, parlando con gli scienziati e cercando di comunicare quello che questi scienziati hanno scoperto, è quello che si chiama, in americano si chiama balance treatment. Cosa vuol dire? Vuol dire che, secondo una regola generale scolpita nel marmo, le dieci regole del trovate da Mosè, portate giù, eccetera, eccetera, bisogna sempre sentire tutte le due campane. Ok? Ok, d'accordo, si può sentire le due campane nel campo dell'economia, si possono sentire le due campane nel campo della politica, ma spesso e volentieri si trasferisce, scusate, questo metodo di comunicazione anche dove è assolutamente inutile, anzi molto dannoso. Faccio due esempi molto, due esempi classici. Nel campo della comunicazione del riscaldamento globale, le due campane non hanno ragione di essere. Ci vuole una campana enorme e una campanellina minuscola, perché i dubbi esistono, ma leggendo la letteratura scientifica, i dubbi sono assolutamente sopraffatti dalla relativa sempre certezza della responsabilità umana nel riscaldamento globale. Altro esempio, ancora più classico, ancora più spinto, è quello dell'evoluzione. Se ne parla ovunque, si parla di creazionisti, eccetera, eccetera. Non esistono le due campane nel campo dell'evoluzione. In questo momento dell'intrapresa scientifica, l'evoluzione per selezione naturale, darwiniana, post-darwiniana, neo-darwiniana, chiamatela come volete, è il paradigma di spiegazione, quadro di riferimento totale della biologia. Un giornalista posto di fronte alla necessità di comunicare una notizia che parla di evoluzione, non di riscaldamento globale, ma anche di altri argomenti, si trova quasi obbligato a sentire le due campane. Il problema è che in questo modo vengono fuori degli articoli che sono puramente e semplicemente sbagliati. Quale potrebbe essere? Non sono convinto di quello che sto dicendo. Mi sembra interessante questo. Non sono assolutamente convinto, ma quale potrebbe essere la soluzione? Posso dire che con questo freddo non ci credo neanche io al riscaldamento globale? No, lo sapevo. Sto congelando. Lo sapevo, confondono il clima con la mente. Proprio lei, dottoressa, mi scusi. Ok, in ogni caso. Quale potrebbe essere la soluzione a questo dilemma? A quello che io considero un grosso problema. Apro una parentesi. Questo è un problema, ripeto, ancora filosofico. Al di là di tutti gli innumerevoli errori che i giornalisti, scientifici o meno, fanno nei giornali. Confondere un animale con un altro, confondere una particella con un'altra. Sono cose che io non sopporto, io non sopporto neanche che confondano il nome latino con un altro. Sono fissato, sono malato, tutto quello che volete. Ebbene sì, lo confesso. Ma queste sono cose marginali, mi rendo conto persino io, il che vuol dire che sono veramente marginali. Come si potrebbe risolvere questa soluzione? E qui arriviamo a questa sala. I blogger, spesso e volentieri, sono un ottimo ponte di comunicazione tra la scienza dura e pura. Il research blogging di cui ha parlato Lisa prima è un esempio classico. Sono un ottimo ponte di comunicazione, di spiegazione di quello che c'è nei paper scientifici, che spesso e volentieri, lo dicono tutti, non sono facilissimi da capire, e quello che un giornalista dovrebbe leggere per poi riuscire a comunicare al meglio. Il problema a questo punto è quali sono i blogger migliori. Non lo so. Questi, d'accordo, parliamoci addosso, che non è molto bello. Però la domanda mia è, è molto probabile che il blogging possa essere la soluzione per riuscire a chiudere questo ponte, per riuscire a costruire questo ponte. Non so com'è possibile che i blogger migliori salgano a galla e riescono a far capire che loro sono i migliori. Essendo un biologo darwinista fino al midollo, penso e spero che la selezione naturale ci possa aiutare. Grazie. Quindi il tuo messaggio è la scienza non è democratica, diciamocelo, anzi diciamolo forte nella telecamera, la scienza non è democratica e quindi le due campagne della scienza non funzionano, anche se spesso nei giornali e anche su internet le presentano. Uno dei modi per far emergere i blog, e quindi anche degli scienziati, ma non solo, è quello di raggrupparli in iniziative come i carnevali scientifici. Ci sono carnevali per tutti i tipi di blog. Negli ultimi due anni i carnevali scientifici hanno avuto un discreto, direi buono, successo. Uno degli ultimi in attima, quello che credo tra tutti sia anche un po' meglio, sono molto simpatici, io sono una biologa quindi credo che mi siano simpatici per affinità, oltre che per simpatia vera, è quello del carnevale della biodiversità, di cui Livio Leoni, che ha un blog che io non so dire. Conunciabile, sì. Ma, Henge, Cromis, lo cambierò, cambierò il nome. Tu scrivi di cose, di cosa scrivi? Di animaletti minuscoli, pesci, acquari, pesci che stanno negli acquari, sa tutto, è una fonte inesauribile di notizie sui pesci, e adesso ci parla però del carnevale della biodiversità, di cui è promotore insieme a Marco e a Lisa. Sì, io porto un'esperienza, scusate la voce, ma se non riduce dall'influenza, scusate anche magari l'accento, però, bergamasco. Allora, il carnevale della biodiversità, porto questa esperienza legata al 2010. Il 2010 è stato l'anno della biodiversità, l'anno internazionale. Poi, se noi dobbiamo tirare un succo di che cosa ha voluto dire, cioè io faccio fatica, perché grandi eventi io non ne ricordo praticamente quasi nessuno. Di grandi libri che devono rimarcare questa cosa, sì, forse c'è stato il più grande spettacolo della terra dell'esimio professor Dawkins, poi c'è stato, forse un altro, la battaglia delle farfalle, in italiano, adesso sto parlando poco altro. Allora, l'idea mi era venuta durante una notte in sonno, che mettevo assieme questi, non chiedetemi perché questi pensieri, e ho detto, un carnevale scientifico. I carnevali scientifici c'erano già in Italia, sono un'idea anglosassone che è geniale, perché se voi ci pensate, iniziano due concetti antitetici. Il carnevale, una festa. Voi potete pensarla come gli anglosassoni, dove per il carnevale intendo la parata, pur come gli europei, la festa, in maschera, quindi festa, e la scienza, cioè quella che il pubblico comune pensa alla quaresima. E invece attraverso il carnevale tu riesci a far passare un concetto che è, uai, la scienza è divertente. È divertente. Cosa sono di fatto? Sono una parata di blog che dovrebbero interagire, o perlomeno scrivere dei post, su un tema unico che vengono riuniti. Questa è la realtà anglosassone, e se voi andate a vedere soprattutto in America ci sono carnevali di ogni tipo, c'è il carnevale degli oceani, ce ne sono tanti. In Italia arrivano nel 2009 col carnevale della matematica, è il 2008, scusate, carnevale matematica, il 2009 carnevale della fisica, poi siamo arrivati noi, carnevale della biodiversità. Dico noi perché? Perché io spesso mi contraddico, sono in contraposizione con me stesso, quindi è difficile gestire una cosa se poi non sono d'accordo con me stesso. Allora ho chiesto da altri due che sono qua adesso, perché essere in tre vuol dire essere ancora in più disaccordo, però poi si vota e la votazione democratica risolve tante cose. L'idea era praticamente di richiamare, radunare i blog naturalistici, e già non vi dico, si possono dire le parolacce? No, no. Le pippe che ci siamo fatti su cosa vuol dire essere un blog naturalistico, perché ormai è una parola desuetta, cioè che non si usa più, che parlavano di scienze della vita. Alla fine ce l'abbiamo fatta, abbiamo fatto questo grande bando. Abbiamo dato, ci siamo dati delle regole abbastanza diverse dal resto dei carnevali italiani anche di oltro oceano. Perché ce le siamo date? Allora, non perché siamo i più bravi, cioè oddio voi siete liberissimi di pensarlo, noi non lo diremo mai pubblicamente, va bene? Però perché c'erano delle motivazioni, tipo gli altri carnevali escono una volta al mese, ecco, a noi fare un lavoro del genere una volta al mese sembra un lavoro molto forte. Non è perché non vogliamo lavorare poi in realtà, in realtà è che uscire ogni mese a noi sembrava un po' troppo diluire l'evento, perché costringere delle persone ogni mese a leggersi 20, 30 post, insomma diventa anche quello un lavoro, non so se hai bisogno di spiegarmi. Quindi bimestrale ogni due mesi, ok? L'altra cosa era uscire tutti assieme in una data unica, e questo è stato veramente un grosso punto di scontro con gli altri blogger, perché questo costringe prima di tutto l'eventuale revisore, cioè quello che accoglierà i post di tutti, rivedendoli, dando un'introduzione, un riassunto sul proprio blog, a fare un lavoraccio in due o tre giorni. Perché noi possiamo dare delle scadenze di dieci giorni in anticipo, però lo sappiamo, non vengono rispettate molto. In genere venivano dato tre giorni prima, due giorni, ok? Il giorno stesso. Ci sono state delle scene epiche, che però racconterò poi magari dopo, a microfoni spenti. I blogger ovviamente si sentivano abbastanza infastiditi da questo, perché vuol dire costringere la propria programmazione, se uno ce l'ha, a cambiare totalmente. Però perché anche questo lo volevamo fare? Perché crei un po' l'evento, l'attesa. Cioè come può aspettarsi il telefilm che viene quel giorno particolare, alla tv oppure sulla rete, quindi tu te lo aspetti. Questo, devo dire, ha pagato molto. Altre regole che ci eravamo dati, era per esempio che devono parlare di scienza. Abbiamo dovuto rifiutare, purtroppo, perché non era quello il loro posto, dei post che narravano digite, ci sono anche queste, che fanno parte, però non lo metti nel carnevale. Oppure di anidotti che va aria, tutte cose molto interessanti, però non vanno lì dentro, non vanno proprio lì dentro. Abbiamo avuto sei appuntamenti, noi come carnevale della biodiversità. Un po' inizialmente perché non ci eravamo dati una schiedenza fissa, cioè quanto saremmo durati per sempre. Un anno, l'anno della biodiversità tutto sommato durava un anno. E noi avevamo iniziato alla fine e siamo durati un anno. Adesso siamo in stasi provvisoria, ma ripartiremo, perché in tanti ce lo chiedono. Sei appuntamenti con titoli molto generali. Titoli molto generali da parenti serpenti, fino a, che ne so, alieni tra noi, ma le specie aliene, quindi quelle esotiche. Cosa di questo genere. Concludendo, vale la pena il carnevale? Il carnevale paga, i due lati della medaglia sono paga per i blogger, paga per il pubblico. Allora, per i blogger dipende. Sicuramente unirsi, vuol dire, prima di tutto, iniziare a conoscersi. E questo, guardate, che non è poco. Io ho conosciuto gli altri due, grazie ai blog, e anche altri, proprio grazie ai blog, al fatto che bisognava scrivere un riassunto, allora bisognava capirsi. Quindi sicuramente paga. E poi anche, linkarsi fra di noi, vuol dire che a questo punto, acquisti, nella classifica, che vengono, nelle classifiche che vengono fatti in internet, un posto preminente, una visibilità. A volte questo non significa, però, essere più letti. A un certo punto è venuto l'impressione che il carnevale servisse più a chi lo scriveva che a chi lo leggeva. Ve lo dico proprio così. Al pubblico serve? Allora, dipende dai periodi. A volte il carnevale crea evento, se tu riesci prima a gestirtelo bene, con temi molto interessanti, ogni due mesi così, e quindi allora crei veramente attesa e hai tanti contatti quel giorno, o appena nei giorni successivi. Soprattutto serve al pubblico perché va a cercare certi temi e se li ritrova indicizzati bene. Questo l'abbiamo capito. Certi post del carnevale, certi temi, sono molto elevati nelle classifiche di Google. Quindi, secondo me, si conviene da una parte o dall'altra, generalmente non proprio sul breve periodo. Grazie. Grazie Livio. Che facciano i blog e i blogger? Paolo Gif, che vedete laggiù in fondo, è uno, diciamo, storico della blogosfera scientifica italiana. Ti piace come descrizione? Ha fatto un'indagine sui blog scientifici mettendoli insieme tutto, facendo da bravo scienziato grafici. vedrete dei grafici, ma insomma non fanno male, quindi ogni tanto si possono anche guardare e ci farà una panoramica descrivendo, credo, chi siamo, da dove veniamo e non dove andremo, ma quello magari lo vediamo. Voglio sperarlo. Chimico impertinente, scusa, non ho detto il nome del tuo blog. Buonasera a tutti da Alchimico impertinente. Per me è un grande onore partecipare attivamente a questo primo bellissimo appuntamento dedicato alla blogosfera scientifica del nostro paese. Ringrazio gli organizzatori per questa lodevole iniziativa e l'opportunità che mi concedono. Quella che mi accingo ad illustrare è una breve raccolta dei dati che sono riuscito a collezionare attingendo le informazioni della home page degli oltre 300 blog attualmente presenti nel mio censimento. Dati che mi avviso forniscono un quadro abbastanza completo della situazione anche se possono sicuramente essere migliorati. Il database che ho allestito principalmente per fornire una risorsa utile a chi cerca scienza fresca e informale dei blog senza alcuna presunzione di classificazione o discriminazione contiene oggi 316 siti ordinati alfanumericamente. Un numero che è destinato sicuramente a crescere in maniera costante come si evince anche dal primo grafico. Nonostante l'estenuante concorrenza dei siti professionali e la scarsa diffusione al di fuori di un settore forse un po' troppo di nicchia. Un destino che tuttavia potrebbe cambiare presto se le tendenze si allineeranno con quelle del resto del mondo dove all'universo dei blog si guarda sempre più con fiducia e simpatia al punto che sono stati perfino pubblicati diversi articoli scientifici peer-reviewed che li esaminano esaltando le potenzialità divulgative e didattiche nell'ottica di una maggiore e più efficace popolarizzazione della scienza e che nella maniera più amichevole e informale possibile rendono accessibili al grande pubblico argomenti ostici che spesso sono appannaggio esclusivo degli addetti ai lavori. Se proprio vogliamo operare una distinzione possiamo riconoscere che esiste un 38% dei blog che non trattano una specifica materia ma spaziano attraverso più argomenti spesso in maniera molto trasversale. Per il 29% non è stato possibile riconoscere una specifica disciplina generica bensì il tema principale verte su nicchie scientifiche precise come l'ittiologia la climatologia la speleologia e altre scienze particolari troppo particolari per essere accomunate alle altre categorie. Per il resto ho rilevato un buon 10% dei blog che trattano argomenti di biologia quindi anche qui come research blogging sono in maggioranza un 7% di astronomici 6% di matematica e chimica e un 4% di matematici. Una distinzione legata alla tipologia dei blog è ancora possibile da cui ricaviamo un abbondante 68% di blog a gestione puramente individuale mentre per il 20% di essi sussiste una situazione di tipo corporativo o collaborativo tra più autori per il 12% invece il blog appartiene ad un network più o meno noto come per la serie di blog delle scienze di focus o del fatto quotidiano che stanno emergendo sempre più anche qui da noi. Una considerazione interessante emerge dal fatto che un quarto dei blogger esaminati preferisce utilizzare uno pseudonimo un segno che forse più che sfruttare il proprio nome soprattutto se sconosciuto ci si concentra sui contenuti evitando di distrarre il lettore da un nome che talvolta potrebbe essere troppo scomodo o troppo ingombrante anche se presumo che i veri motivi di queste scelte possono essere più disparati. Uno sguardo sul genere del blogger purtroppo rivela che le donne sono in netta minoranza nonostante l'assenza di alcuna discriminazione verso l'utilizzo dell'interfaccia di lavoro o di eventuali preclusioni o pregiudizi data la completa libertà di accesso un segnale di minor attivismo ferminile correlato alla divulgazione attiva delle scienze sul web o un pragmatismo contrapposto ai sognatori maschi chissà. Molto interessante invece è la distribuzione dell'anno di inizio dei blog scientifici che evidenzia un fenomeno di crescita iniziato all'inizio di questo millennio è culminato nel 2009 per poi assestarsi su medie più modeste al di là del ritardo che abbiamo rispetto ai paesi anglofoni spagnoli e francesi sembrerebbe che la tendenza al momento sia in declino probabilmente per questioni legate allo scasso riconoscimento di questo mezzo che altrove è molto più valorizzato e dà più chance di evolvere sicuramente non per questioni di saturazione data l'eseguità del numero di blog che trattano temi scientifici tecnorati che ha dismesso ogni attività non anglofona al momento raccoglie oltre 12.000 blog scientifici in inglese che all'inizio del 2011 erano appena la metà per quanto concerne l'utilizzo dei social trascurando il contributo di friend feed in evidente via di abbandono e altri social minori che qui da noi non attecchiscono vediamo una situazione quasi paritaria della spertizione tra facebook e twitter con un timido incipit di blog che si affidano al google plus qualche volta anche in maniera esclusiva sarà interessante assistere all'evoluzione di questa ripartizione chissà se google plus che tra l'altro sembra più pulito e meno invasivo degli altri riuscirà a emergere nel prossimo futuro in maniera del tutto arbitraria ho suddiviso la produttività del 2012 quindi fino a questo momento in 5 blocchi dove troviamo che oltre 70 blog tra quelli di cui sono riuscito a recuperare questa informazione non hanno pubblicato più di 10 post 64 blog si assestano tra 11 e 50 42 tra 51 e 200 e solo 12 riescono a blogare quasi tutti i giorni e a volte anche di più uno dei sistemi di valutazione già preconfezionati sebbene non infallibile credo nel nostro caso non proprio del tutto adeguato è il page rank di google un algoritmo di analisi che assegna un valore tra 0 e 10 in base ai criteri che servono a risultare prima nei risultati di ricerca che determina una distribuzione dei blog scientifici abbastanza gaussiana se mi passate l'analogia in cui si nota un discreto pacchetto di blog che si assesta con un ragguardevole page rank di 3 e 4 con alcune eccellenze che si distinguono oltre il 5 c'è ancora una parte di research blogging scusa non l'ho scelto io mi fanno fare il cerbero ma puoi concludere però sono un cerbero buono nella conclusione era basato sull'esaltazione di research blogging però va bene l'ho già fatta qualcun altro no ma non esaltiamo tanto Peppe Liberti è laggiù e si auto esalta ho visto quando dicevi che FriendFeed sta morendo del movimento qua di un gruppo di FriendFeeder che si sono sentiti offesi probabilmente no no infatti diciamolo FriendFeed sta bene lotta insieme a noi no? ecco grazie grazie Paolo Gif e gli ultimi due interventi stanno a metà tra la scienza e la fuffa nel senso che non perché la studio scientifico della fuffa in parte e come la fuffa va a influenzare il lavoro di noi che ci occupiamo di comunicazione della scienza Silvi in arte Oka Sapiens ha un blog seguitissimo ecco c'è un applauso dal pubblico AnswerSapiens prima che l'EUcofea mi spari AnswerSapiens va bene va bene Oka Sapiens mi è stato rubato lo sai c'è una signora che ha deciso di chiamarsi l'EUco Sapiens l'anno scorso se me ne sono accorta solo quest'anno appartiene a Repubblica non appartiene a me cioè se la vedrà io sono una giornalista cioè una giornalista utilizzo il sono ospite di di del sito di di che è il settimanale femminile di Repubblica e utilizzo il blog per scrivere degli appunti di lettura quelli che perdevo regolarmente perché mi dimentico questo in un treno eccetera e quindi li faccio in realtà a me sta succedendo un po' il contrario di quello che credo succeda a chi pubblica sulle riviste scientifiche nel senso che io per esempio leggo un articolo scientifico metto il link mi entusiasmo oppure mi infurio e lo scrivo cioè mi metto degli appunti che poi mi serviranno a scrivere su Oggi Scienza a scrivere sul Sole 24 Ore o a scrivere su Di lì mi ritrovo tutto no? e la cosa è che se io sbaglio passa un ricercatore una ricercatrice me lo dice mi dice questo non va bene è così che ho conosciuto Meristemi Gif è così che ho conosciuto alcuno di voi cioè perché voi facevate ricerca siete venuti da me hanno detto questa cosa non va bene ciò che lì di picaia per dire ogni tanto e mi sembra normalissimo nel senso che io prendo lì appunti e sbaglio ma la cosa di cui vorrei parlare perché non sono d'accordo con l'eocofea non sono d'accordo neanche con l'orologiaia miope la cosa che trovo scandalosa è che si debba pagare 39,90 dollari per leggere una ritrattazione di 14 righe o di 6 righe su una rivista Wiley Elsevier non importa e questo è pazzesco se un articolo non è più valido che sia scritto è stato ritirato perché spesso il perché non c'è questo non va bene anche lì secondo me è una lotta da fare ma da parte degli scienziati prima di tutto non dei giornalisti voglio dire che il problema sul quale l'eocofea ha sorvolato essendo stato uno scienziato ovviamente e quindi difensore della categoria poi dopo ci pestiamo e il fatto che si è visto per esempio nel processo al comitato dell'Aquila che si è visto all'Aquila dove degli scienziati hanno detto no se c'è uno sciame non è detto non ci sarà il terremoto hanno reagito semplificando a una situazione dove era stata prodotta molta fuffa no per il terremoto dell'Aquila non so se vi ricordate devo fare no ve lo ricordate ecco c'era la storia del Radon di Giuliani eccetera c'è stata una reazione di semplificazione che è stata amplificata la semplificazione dai media questo non è niente cioè il problema è che gli scienziati spesso rifiutano di comunicare l'incertezza perché loro stessi non sono in grado di comunicarla nei loro articoli scientifici uno dei grossi problemi che io ho quando leggo degli articoli scientifici me li appunti e spesso le statistiche fanno schifo il calcolo delle probabilità fa schifo sembra di essere nell'ottocento come se negli ultimi 50 anni non ci fosse stato un enorme sviluppo degli strumenti statistici cioè la quantità di fufa che arriva anche sui grandi giornali cioè grandi riviste ma la quantità di fufa che arriva sulle riviste open access che sono peer review di una volta sì una volta no secondo me e quelle tarroccate cioè la cosa che ormai trovo tremenda è quanti scienziati pubblicano dati falsi un caso che stava per costarvi un miliardo anche a me perché pago le tasse qua un miliardo e 300 milioni di euro è quello cosiddetto del piezopoli thriller all'italiana vabbè qualcuno ha detto di aver scoperto le reazioni piezonucleare una specie di fusione fredda tanto per semplificare che si ottiene spaccando dei sassi stritolando dei sassi ma questo niente questa è stata questa scoperta è stata pubblicata su riviste peer reviewed da un signore del Politecnico di Torino che poi è diventato presidente sottominato della Gemini presidente di un istituto italiano di metrologia ottimo dopo che il suo principale collaboratore professor Cardone che non è professore ma non importa aveva costruito insieme all'esercito e a Ansaldo nucleare un reattore piezonucleare con il quale si poteva trasmutare le scorie radioattive in elettricità e che era stato del cui finanziamento per lo sviluppo di un secondo prototipo era stato incluso dentro la legge sull'energia del 2009 votato nel 2009 quindi gli erano stati promessi 350 milioni della regione Abruzzo da cui è originario quello che ha inventato il reattore piezonucleare voi avete presente che non esistono le reazioni piezonucleare voglio sperare o no cioè la fusione è fredda altri 300 milioni 100 milioni a anno li arrivava dal governo e altri 800 li sarebbero arrivati milioni dai 600 800 li sarebbero arrivati dal governo Berlusconi si fosse ancora stato se non che poi a maggio per rilanciare la richiesta di fondi a Finmeccanica governo eccetera hanno fatto un convegno ed è saltato un po' fuori le false notizie il falso curriculum il reattore nucleare che c'era già che però non c'era le pubblicazioni che erano tutte sbagliate e che dietro c'era una famiglia che si dedica alle truffe su internet che è il clan dei Fucilla che crea più o meno una ventina di aziende all'anno le quali vendono per esempio il reattore piezonucleare che non esiste però loro l'hanno già creato l'hanno già costruito l'hanno già anche venduto negli Stati Uniti tutto questo appunto su internet e hanno come collaboratori scientifici degli scienziati italiani alcuni famosissimi magari non per la loro scienza come Gianni degli Antoni che era un famoso professore di informatica all'Università di Milano e tutto questo appunto loro vendono delle azioni in queste in queste loro imprese che costano anche poco allora io vorrei che in Italia dove il primo blog di scienza quando si va a guardare nelle classifiche è quello di Beppe Grillo il quale becca tutte le buffale io vorrei che dai blogger e soprattutto dai blogger giornalisti ci fosse una sorta di alleanza per distruggere questa cosa qui perché lo stesso movimento cinque stelle cioè quello che sta facendo che ha fatto Beppe Grillo adesso lo stanno facendo i camerati ho dimenticato di dire che il reattore piezonucleare è prodotto da un'alleanza di AN Vaticano eserciti mi sembra una posizione sicura chiara e quindi poi magari dopo ne discutiamo facciamo l'ultimo intervento perché siamo sempre in ambito di fuffa in questo caso fuffa seria fuffa vera fuffa da un sacco di anni con i miei due compari del CICAP che sono Andrea Ferrero e Stefano Bagnasco CICAP e Query che è la nostra rivista io quindi ho un conflitto di interesse per cui non riesco tanto a presentarli perché siamo una squadra loro ci parleranno di come di come studiamo la fuffa e di come la fuffa negli ultimi anni sta entrando sempre più all'interno della scienza e della comunicazione della scienza e magari di come affrontare questa cosa siamo in mezzo ai blogger probabilmente sapete tutti che è Phil Plait il tenutario di un famoso blog di astronomia si chiama The Bad Astronomer è un ex astronomo che si occupa di smontare fuffa astronomica tutte le cose sulle fasi lunari fuffa gigantesca si fuffa sesquipedale che si occupa di smontare tutto questo genere di buffale lui ha un blog molto seguito che prima era su non mi ricordo più che piattaforma poi è andato a finire su Discover comunque è un blog estremamente seguito ha smesso di fare l'astronomo per fare come molti il divulgatore scientifico nel 2010 all'amazing conference che si chiama all'amazing meeting James Randy a Londra James Randy sapete che è questo prestigiatore che da anni si occupa prima di tutti noi si occupa di smontare bufale pseudoscientifiche pseudomagiche tutto questo genere di cose ha parlato ha fatto una conferenza abbastanza inusuale cioè non si è chiesto non ha parlato come fa al solito lui di astronomia vedete? funziona bea sei intera? smetto smetto no è chiaramente un complotto è un segno è un segno è un segno va bene l'iPad sta bene quindi è tutto a posto possiamo continuare dicevo Phil Plait ha fatto questo questo intervento lui non parlava di astronomia ma si interrogava su quale dovrebbe essere la forma in cui noi che ci occupiamo di questa cosa facciamo scetticismo militante diciamo così andiamo a parlare al pubblico di queste cose e questa è una cosa che è interessante moltissimo specialmente per noi perché quando cos'era ormai tre anni fa quattro anni fa abbiamo cominciato il progetto Query cioè inventarci un nuovo modo rinnovare un po' il modo in cui il Cica parlava alla gente di cosa parliamo? cosa raccontiamo? e come lo raccontiamo? allora lui noi ci abbiamo pensato ci siamo posti anche noi questo problema e ci siamo resi conto in realtà che quello che dobbiamo fare è non tanto vincere la discussione andare a parlare fare il dibattito col fuffaro col fuffologo con lo pseudoscienziato e cantargliene quattro dobbiamo non essere aggressivi e cercare di portare le nostre ragioni non importa vincere la discussione importa quello che noi spieghiamo alle persone che ci stanno in quel momento ascoltando perché così riusciamo a raggiungere non quelli che abbiamo già convinto che sono già d'accordo con noi se io vado a una platea di fisici e gli spiego che la reazione piena di dos nucleare non esiste sono già convinti cosa ha concluso Phil Plait? ha concluso questo don't be a dick non fate gli stronzi benissimo perché abbiamo deciso di citare Phil Plait per poter dire una parolaccia per farci notare per provocare sì ma soprattutto perché in questo discorso andatelo a vedere su internet Phil Plait si fa una domanda che ci siamo fatti anche noi da quando esiste il CICAP e cioè qual è veramente il nostro obiettivo a chi vogliamo parlare cosa vogliamo raggiungere vogliamo far sparire la pseudoscienza vogliamo costruire il partito degli sceltici qual è il nostro vero obiettivo e nel corso dell'attività del CICAP ci siamo resi conto che i veri obiettivi le vere cose che vogliamo ottenere con i nostri discorsi sono tre noi diciamo vogliamo prendere tre piccioni con una fava allora quali sono questi tre piccioni il primo piccione è quello a cui tutti pensano quando si parla del CICAP svelare il mistero cioè smontare la bufala spiegare perché la fusione fredda non funziona oppure qualsiasi altra la teoria del complotto se è la scienza che volete voi in realtà non funziona e questo è la prima cosa a cui si pensa ma in realtà nel tempo ci siamo resi conto che non è l'unica non è neanche la più importante per noi perché perché spuntano sempre nuove bufale vanno avanti all'infinito allora noi vogliamo fare qualcosa di più la seconda cosa il secondo piccione che è anche molto importante per noi è far passare dei concetti scientifici per esempio se parliamo di omeopatia possiamo spiegare cos'è il numero di Avogadro ma il terzo piccione che è quello che alla fine ci interessa di più è sfruttare l'esempio della fusione fredda dell'umeopatia di quello che volete per spiegare come funziona la scienza per spiegare perché quello non è scientifico e un'altra cosa sì per aiutare alla fine le persone a pensare con la propria testa che è il nostro vero obiettivo non vogliamo che persone pensino a quello perché l'ha detto il CICAP perché ci ragiona e non ci arrivano da soli allora quello che dice Phil Plait e che abbiamo constatato anche noi è che se noi aggrediamo se noi diciamo ci prendiamo gioco delle persone le offendiamo cerchiamo di rendere ridicoli quelli che dicono queste cose sì magari ci sentiamo meglio magari siamo più contenti magari galvanizziamo i nostri sostenitori però riusciamo a prendere il primo piccione le persone che invece non hanno ancora deciso che sono i fan-sitters dice Phil nel suo discorso chi sta sul bordo del campo a vedere come va la partita ci vedono come una parte una squadra in campo contro l'altra non ci vedono come un arbitro se noi vogliamo essere una fonte obiettiva se vogliamo essere presi come qualcuno che non ha un interesse ma che vuole soltanto aiutare a capire quella verità non possiamo permetterci questo dobbiamo essere più neutrali allora se vogliamo prendere veramente tre piccioni cerchiamo noi per primi perché abbiamo visto che non è molto facile di non fare i cazzoni di non fare gli strozi ha detto cazzoni mi sembra più corretta la traduzione no no prego figurati bisogna essere in streaming per filologia ho detto cazzoni filologicamente corretto va bene allora abbiamo finalmente finito e però in realtà l'obiettivo di questa cosa era discutere per cui adesso dovremmo farlo io non so se abbiamo tempo Peppe abbiamo tempo? sì ah Dario vuoi dire qualcosa? Dario Brestanini io volevo fare una domanda eh vai iniziamo la discussione per le domande valgono le regole di prima io sono sempre cerbero per cui è un intervento che non duri mezz'ora avete parlato di tantissime cose io avevo una domanda specifica quindi sui carnevali io ho partecipato credo al primo carnevale della biodiversità scrivendo un articolo sul vino e la genetica della vite e anche un articolo sul il carnevale della chimica poi lo confesso ho lasciato un po' perdere non ero molto convinto di queste di queste iniziative mi sembravano ho detto onestamente solamente un po' diciamo una ridizione scientifica di quello che da tempo accadeva nell'altro mondo in cui i bazzico cioè quello dei food blog dove c'è un po' la corsa a linkarsi tra di loro tra di noi a volte per aumentare così ecco quindi io ero lasciato un po' perdere perché mi sembrava un po' un'occasione un po' fine a se stesso cioè che non riuscisse a uscire dal 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 solito circolo di persone che già leggono comunque quei blog che era invece il tipo di pubblico a cui io cerco di 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 fare riferimento cioè persone che non leggono normalmente cose scientifiche che non hanno nessuna idea di come funziona la scienza che però secondo me vanno recuperate ecco quindi io ero curioso di sapere visto che poi ho perso un po' di vista e questi carnevali ce ne sono tanti volevo capire se voi avete qualche informazione su diciamo la penetrazione al di fuori del nostro piccolo circolo di blogger che si leggono si citano a volte non si citano ma si leggono comunque in persone appunto che invece non avevano mai sentito parlare del pesce dell'acquario o dell'animale pseudo preistorico e che invece hanno così iniziato a seguire o anche voglio sapere se avete qualche dato che vi arriva appunto dai contatti dalle analisi dalle stringhe di ricerca che a volte si si possono recuperare grazie allora dati mi sembra esagerato però la cosa di cui ci siamo accorti crediamo che sia questa allora ogni blog ha un suo seguito nei carnevali hai ragione fondamentalmente sì i carnevali io temo che siamo proprio nati per linkarsi fra siti amici fra blog amici e crescere di livello nella classifica la cosa che credo però sia successa nei carnevali io ho visto il carnevale biodiversità è che ogni blog ha un suo seguito abbastanza fedele e abbiamo visto spesso questi seguiti non vanno a leggere altro cioè uno che si interessa che ne so di di piante che ne so va a leggere i meristemi magari non va a leggere le cose sugli animali oppure non va a leggere la parte sul vino l'articolo io vedendo i dati invece di accesso mi sembra che i carnevali servivano ai lettori abituali di un blog andare a leggere invece un altro blog che però era all'interno della rassegna questo perlomeno inizialmente io ho avuto questa impressione perché effettivamente alcuni post miei ma anche di altri sono stati molto letti più dell'usuale perlomeno questa è l'unica impressione penetrazione sul pubblico che generalmente non legge di scienza giusto ecco io quei dati qua non siamo riusciti credo che invece sia desolante però la risposta è che proprio no cioè nella blogosfera i carnevali possono essere importanti ma non sembrano riuscire a penetrare questo muro di lettori non abituati alla scienza perlomeno prego allora io posso riportare qualche altra evidenza un po' più ottimistica Chimicare aveva lanciato all'inizio dell'anno scorso l'anno internazionale della chimica il carnevale della chimica e abbiamo notato due cose una storica e una proprio contingente di questi giorni quella storica è che soprattutto quando l'argomento non è troppo generale troppo trasversale ma è un po' più specifico ad esempio la chimica dell'acqua oppure non so c'era stata la chimica dei sensi quindi quello che viene a crearsi in questo modo nella pagina dove viene pubblicato il carnevale è quello che si potrebbe definire un monumento permanente che rimane nel web su quello specifico argomento che di per sé più che per il blog che l'ha pubblicato ha una forza incredibile dal punto di vista della posizione nelle classifiche nelle SERP ad esempio di Google quando un navigatore cerca la chimica dei sensi o la chimica dell'acqua si imbatte in quello e ha trovato un tesoro in pratica perché dentro ci sono un sacco di link a contenuti specialistici commentati a loro volta quindi leggendo anche i commenti al fondo dei singoli interventi nel carnevale eccetera c'è anche una visione critica argomentata della chimica dell'acqua o dei sensi la cosa invece un po' più immediata è cosa è successo qualche giorno fa probabilmente i miei colleghi blogger lo sanno il carnevale della chimica insieme a quello della fisica sono usciti con un'edizione unificata un'edizione unificata per trattare un argomento che sta tra l'astronomia l'astrochimica e l'astrobiologia perché c'è stato un congresso a San Marino da un certo punto di vista abbastanza borderline per il tipo di organizzazione che la teneva quindi è dell'International Academy of Astronautics quindi il vecchio progetto SETI di cui si parlava già negli anni 60 eccetera però nonostante questo abbiamo deciso in qualche modo di supportarli dal punto di vista divulgativo e promozionale perché abbiamo visto che nel programma proprio degli interventi c'erano interventi di astrochimica astrobiologia astronomia eccetera che sembravano effettivamente di valore allora venendo al punto siamo stati contattati da più di un giornalista di riviste anche nazionali cartacee che hanno scoperto l'esistenza dei carnevali e di conseguenza dei blog scientifici quindi persone che assolutamente non sapevano di questa vastità infatti chiedono numeri chiedono nomi grazie al fatto che abbiamo partecipato a un evento al di fuori di internet e qui mi riallaccio al mio intervento prima uscire fuori strappo il microfono no ma non mi piace fare il cerbero in realtà sì però allora domande dal pubblico poi in realtà ci sono anche i relatori che devono parlare Federica di direttore di oggi scienza per quel che vale essere direttore di un blog vai no ho una domanda per qui quindi uno due tre e proprio parlando dei tre piccioni appunto voi dite non bisogna essere aggressivi bisogna in qualche modo catturare il piccione questo secondo me come in politica può valere per gli indecisi non per chi sta chi è già con noi e con noi ci difenderà la spada tratta lo vediamo anche nei commenti immagino lo vedete voi lo vediamo tutti chi ce l'ha con certe cose l'omeopatia il piezo nucleare e mille altre cose non ci arriverà mai su anche se gli spieghiamo che non esiste la memoria dell'acqua perché citando review eccetera eccetera non ci arriverà mai quindi sono gli indecisi voi avete qualche evidenza non dico dei dati ma almeno un sì no del fatto che funziona cioè che che qualcuno alla fine capisce che nel prodotto omeopatico c'è solo acqua o solo zucchero e dice oh cavolo cioè ma io questo non lo sapevo ma sì è difficile avere dei dati ci sono ci sono degli studi scientifici per esempio in questa discussione che c'è stata quando Plata ha detto questa cosa qui Dawkins si è offeso tantissimo Pisi Myers si è offeso non ho cominciato a discutere e Lockstone che è uno di di skeptic degli scienzi americani ha tirato fuori degli studi di psicologia che dimostrerebbero questa cosa qui che secondo me vale fino a un certo punto insomma esatto esatto no no ma infatti è molto molto popolare certo molto popolare diciamo adesso io volevo che rispondesse Bea perché lei è l'esperta di comunicazione della scienza quindi questa cosa qui eventualmente ti risponde lei come sensazione io ti posso dire che funziona da due punti di vista uno che gli indecisi sono la oltre a essere quelli su cui ha senso lavorare sono comunque la fetta più grossa i scettici sono una frazione infima della popolazione ma anche i veri credenti i veri i fuffari sono rumorosissimi ma in realtà non sono così tanti la maggior parte delle persone magari ha una o due cose di cui è convinta ma per il resto è aperta è disposta a stare a sentire e quindi prima cosa quindi sono tanti e seconda cosa come esperienza personale io in 15 anni ho visto che non più tardi di due giorni fa proprio su Queer Online ho risposto a una persona che ha premesso dicendo io mi curo con l'omeopatia me e mia figlia anche per le cose serie allora ho detto vabbè questa qui vale la pena di scrivere e ci siamo scambiati 3-4 commenti alla fine non avrà cambiato idea sull'omeopatia non è che improvvisamente però comunque il fatto che io l'abbia risposto senza insultarla senza dire sei una cretina spiegandole con calma e con onestà perché noi abbiamo questa posizione secondo me il dubbio le è venuto e di questa esperienza ne abbiamo tantissime non pretendo che siano prove scientifiche però secondo me come impressione siamo convinti che valga la pena solo una cosa aggiungo solo una cosa io la cosa curiosa è che è difficile avere feedback su questa cosa qua cosa c'è? ho sbagliato qualcosa? ah moderatrice posso parlare? grazie che è difficile avere feedback e quelli che ti rispondono sono quelli che sono già convinti quando vai a una trasmissione e dibatti con gli astrologi quelli che poi ti dicono sono quelli che ti rispondono sono quelli che sono contenti oh guarda gliene hai cantate 4 e sono contenti oppure sono quelli che ti dicono ma perché non hai insistito di più? perché non gliene hai cantate davvero 4? quando invece sei un pochettino più pacato e quindi c'è un bias di selezione all'inizio quelli che ti rispondono sono quelli che in realtà sono già tuoi amici posto che anche noi ci arrabbiamo spesso cioè che non è però per me gli altri scientifici e gli altri scientifici seguono tantissimo la situazione sì 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 no no certo sì sì sono nel nostro pubblico c'è Silvi che scuoteva la testa vigorosamente allora c'è gente pagata per fare i commenti e beh c'è gente che io ne ho incontrato uno al Politecnico ed era della Boiron e va in giro a fare i commenti sotto i post che parlano di omeopatia è il suo mestiere lavora alla Boiron allora lui dice ma io no l'ho fatto poche volte sì però ecco quindi da un lato diciamo che sui blog è diverso nella vita è diverso andare in giro anche nelle scuole oppure parlare cioè quanta gente fa 5 o 6 commenti sotto 5 o 6 nomi diversi porca miseria quando si parla del piezo piuttosto che della fusione fredda piuttosto che della cioè voi sapete che c'è uno che vende uno yogurt a 60 dollari la dose e vi di probiotico che vi toglie l'AIDS ecco uno un professore in un'università italiana diamogli il nome Ruggero dell'università di Firenze l'abbiamo no adesso sì è tuttora professore certo perché non non vabbè quello che voglio dire è che mesi dopo arrivano con cioè lo stesso IP è un nome diverso ancora lì una roba ormai finita che io non la guardo più quindi non ha non ha io non credo alla buona fede almeno non da me no vabbè sì ci sono quelli che ci marciano su però credo che il senso dell'intervento dei miei due compari fosse che non sono il nostro obiettivo cioè il nostro obiettivo sono tutti gli altri vai la questione principale comunque di tutto la questione principale di tutto il blog per quanto riguarda l'altra parte è sempre l'ipsedixit torniamo al tempo in cui è il sole che gira perché perché lo vedi cioè ipseedixit cioè non abbiamo un punto di riferimento che dici vabbè quello dice la verità l'ha detto lui chiudiamola qua ma non c'è perché io posso andare sul tuo blog poi vado su 22 passi dove ti dicono sei una prezzolata contro di repubblica gli faccio querela poi la querela c'è non c'è non si sa poi giro e mi trovo no io ti dico che quello funziona tu mi dici di no cioè io povero disgraziato mi trovo fai metto che ne so fusione fredda o metto pizzo nucleare a parte che il pizzo nucleare ha la cara trasmissione di rai 3 Leonardo che tu dici vabbè l'ipsedixi Leonardo avrà fatto delle indagini però dici mi è passato per la tv l'ho visto io mi fido cioè sempre di chi ti fidi è sempre lì la questione posso dire sì l'ipsedixit è quello che tempo fa si chiamava argumentum per autoritatem non deve esistere nella scienza non esiste l'argomento per autorità esiste un accumulo di fatti di quelli che secondo me con una brutta traduzione si definiscono evidenze ma sono senz'altro solo prove che alla fine dovrebbero convincere qualcuno o qualcun altro l'impostazione però del CICAP è di lasciar perdere coloro che non si fanno convincere dai fatti ed è l'unica impostazione corretta secondo me perché è tempo sprecato assolutamente quando alla fine del mio argomento non ero d'accordo come stesso e dicevo i blogger dovrebbero cercare di essere questo ponte tra se ci fosse una blogosfera corretta se ci fosse una blogosfera come si può dire che ragiona secondo senza scopo di lucro e quindi lo fa per buona volontà questa potrebbe essere la blogosfera che fa da connessione e che diventa in un modo o nell'altro anche per questione di linguaggi corretti l'ipsedixit lo so secondo adesso rispondo a quello che diceva la Silvie la mia posizione mentre lei parlava ho imparato una parola nuova la mia posizione è panglossiana cioè secondo me come la mia posizione la mia visione del mondo purtroppo lo so che è sbagliata ma è viviamo nel migliore dei mondi possibili non è vero tutto quello che vogliamo ma se cominciamo a pensare che non viviamo nel migliore dei mondi possibili in una specie di feedback positivo arriviamo a dire tutto è falso e diciamo diventiamo nei postmodernisti che credo che sia la posizione peggiore su questo pianeta grazie una domanda brevissima noto che così come osservazione proprio di campo appartenenti tutti a settori scientifici disciplinari ben precisi e anche accomunati a una certa area ma avete avuto evidenza di divulgazione scientifica di altri settori insomma mi vengono in mente le scienze sociali piuttosto che di altri settori accademici so che poi la distinzione ci farebbe entrare tra scienza e non scienza in una carella direi non affrontabile come per esempio la filosofia sarebbe interessante magari provare a creare delle reti anche interdisciplinari per esempio io mi occupo di studi sociali sui blog e sarebbe interessante anche in questo caso provare a riunirsi a confrontarsi sulla metodologia di divulgazione di discipline che magari intuitivamente sono più comprensibili perché ovviamente sono argomenti di più di uso quotidiano ma hanno rigore piuttosto che fuffa in circolazione allo stesso modo qualcuno si sente di dire qualcosa? brevissimo sì almeno dal nostro punto di vista come blog di chimicare abbiamo un'intera linea aperta a quello che si definisce il modo di lavorare e di pensare del chimico ci sono anche dei filosofi che postano ad esempio e anche quando non postano i filosofi anche un po' il nostro modo il mio personale anche di scrivere punta molto alla visione interdisciplinare trasversale cioè a me non verrebbe mai in mente ma proprio per gli obiettivi che mi pongo di sviscerare una novità di una scoperta presa da una rivista e di darla magari a qualcuno a cui manca completamente una formazione culturale sulla chimica noi parliamo di cultura scientifica ok domanda da te dal pubblico come si dice in questi casi se ti vuoi presentare sono Roberto sono l'ex vice presidente di Wikimedia d'Italia ma comunque cioè un simpatico signor nessuno quindi no non so se esattamente una domanda voi sapete è vero che negli ultimi credo cinque anni l'Ips e Dixit almeno sulla rete è Wikipedia grazie signora facciamo un mostro meglio e spero lo sappiate e se lo sapete come trattate questa faccenda e che rapporti avete con la più grande impresa culturale finora nella storia come come bite dico quantomeno come qualità ci sarebbe da discutere a lungo personalmente buoni Lisa tu che sei hai parlato di citazioni di fonti condivido che Wikipedia sia l'Ips e Dixit del XXI secolo qualunque dubbio uno abbia oramai va su Wikipedia il problema è che non ci si può fermare a Wikipedia nel senso che per quanto sia meraviglioso lo sforzo di Wikipedia non necessariamente quello che c'è scritto su Wikipedia è vero è il dogma molto spesso controllare su due o tre ma anche dieci fonti alternative sicuramente è meglio quindi Wikipedia è indiscutibilmente un punto di riferimento però quello che deve essere chiaro è che Wikipedia non può essere l'unico punto di riferimento perché lì si cadrebbe in un principio di autorità falsato con un grosso bias dovuto al modo in cui Wikipedia è scritto ma anche perché non è che c'è proprio un unico punto di riferimento cioè ce ne sono tanti comunque vuole dire una cosa no no dico in generale ce ne sono molti volevo correggermi ci sono delle cose ottime nel Wikipedia italiano quello che non capisco è come mai alcune cose ottime che ci sono in Wikipedia tedesco francese o inglese non siano importati nell'italiano pronto no non ti hanno tagliato no pensavo fosse finire questa è una cosa incomprensibile a volte io devo mettere un link cioè noi usiamo parlo per oggi scienza usiamo molto Wikipedia ovviamente e mi sembra normale no ma a volte veramente io metto l'inglese perché l'italiano non va bene ma non va bene per niente e non posso non oso mettere il tedesco questo l'ho fatto sul mio ma non ovviamente su oggi scienza cioè Renato vuol dire una cosa vuol dire due cose funziona sì collegandomi a prima Wikipedia sicuramente ha un enorme successo posso dirlo nei miei studenti visto che la metà delle tesi che devo rileggere hanno almeno metà del contenuto che è copia e incollato direttamente da Wikipedia e questo però è già un problema nella cioè diventa un problema perché significa che chi viene formato anche in argomenti scientifici manca della capacità di rielaborare quello che gli è stato fornito quindi il feed che gli arriva è una cosa che non viene poi digerita e rimasticata e questo mi ricollega all'altra osservazione fatta prima cioè di quali informazioni mi devo fidare allora innanzitutto bisogna accettare il fatto che la scienza non dà informazioni definitive ma stabilisce un percorso allora cosa serve? ma quella quella si trova in parrocchia purtroppo è l'unico ci sono i catechismi eh no infatti ci sono i catechismi ma la scienza è esattamente l'oposto però però su alcuni e su molti argomenti si sono stabilite delle si sono stabilite delle quantità di informazioni che non sono più il frutto di una voce ma sono l'unione di tante voci sono le revisioni sistematiche sono gli articoli revisionati è il metodo brissanini diciamo cioè di prendere solo le informazioni che sono state adeguatamente distillate da sapere scientifico e che quindi sono diventate un qualcosa che non è completamente cristallizzato perché non è definitivo ma non è ancora totalmente liquido più che trasmettere le verità è più una questione di metodo cioè a noi piace tanto puntarla sul metodo il metodo scientifico magari si può lavorare assieme però nel senso blogger scientifici wikipedia giornalisti scientifici scienziati wikipedia cioè per cercare di migliorare queste voci italiane Dario laggiù e poi Andrea ah qua non sapevo che esistesse un metodo il metodo brissanini comunque confesso che una buona parte dei contatti che arrivano sul mio blog arrivano direttamente da wikipedia perché sono linkato da alcuni sulla reazione di Maiaro sulla cottura della bistecca ho una pagina poi fatta anche no io volevo aggiungere una piccola esperienza personale riguardo la fufologia di cui mi occupo anch'io allora io quando ho iniziato a scrivere articoli cercando di combattere alcune credenze fufologie varie io da scienziato iniziavo a scrivere gli articoli come avrei scritto un articolo scientifico mi sono reso conto che in realtà spesso gli indecisi cioè le persone normali a cui mi voglio rivolgere non perdo tempo a discutere con gli invasati in realtà io davo per scontato una serie di cose di fatti di informazioni supponevo che loro avessero il mio stesso background ad esempio per l'omeopatia ho capito che non bisogna star lì a raccontargli del numero avogadro chi se ne frega del numero avogadro perché la maggior parte degli indecisi o di quelli che si curano con l'omeopatia partono da un errore di fondo che io non avevo neanche immaginato cioè sono convinti che l'omeopatia vuol dire curarsi con le erbe quindi prima ancora di andare a discutere dal memoria dell'acqua del numero avogadro delle moli bisogna spiegare che non è curarsi con le erbe non c'entra nulla l'omeopatia con il curarsi con l'erbe ci sono delle erbe o magari un cuore di anatra ma quella è una cosa successiva molte persone confondono anche il nome stesso quindi bisogna partire bisogna farsi un'analisi e cercare di capire che cosa loro le persone a cui ti vuoi rivolgere non sanno che però magari tu dai per scontato questa è la mia piccola e quindi partire ascoltando diciamo a volte è difficile perché loro non sono in grado di dirti cosa non sanno o il cosiddetto framing che loro hanno e che vanno a usare per incasellare le informazioni che tu dai a volte devi capirlo tu a volte può capitare a volte può essere relativamente semplice discutendo salta fuori che alcuni sono convinti che davvero si parta dalle erbe altre volte in altri argomenti è un po' più difficile cercare di capire da dove si deve partire per cercare di raggiungerli certo passa il microfono tra l'altro i primi a non volere che si sappia esattamente cos'è l'omeopatia sono gli omeopati stessi perché si smonta da sola se la gente sa anche cosa io voglio ancora dire una cosa su wikipedia se ci sta ancora io sono sì è bella sono un sostenitore di wikipedia Roberto lo sa ha fatto coming out faccio coming out su wikipedia sono andrea.gf sono stato anche amministratore un po' di anni fa della versione italiana quello che posso dire nella doppia veste di scettico e wikipediano è che spesso le persone intanto le persone del ccap che scrivono su wikipedia sono relativamente poche in rapporto quanto grafomani sono quelli del ccap grazie a dio sostiene Stefano e secondo me è un po' è anche perché spesso non sanno come funziona mi è capitato sentimi dire da altre persone del ccap ma scriviamo la redazione di wikipedia ma non c'è la redazione non va bene come scritto quella pagina fai edit modifica e la correggi e spesso magari spesso no ma qualche volta non conoscono il modo di interagire su wikipedia ci arrivano magari entrano non con delicatezza dicano con un altro se ne vanno ah lì sono tutti fuffari invece non è vero nel senso bisogna imparare le regole di wikipedia ma se le impari si può collaborare benissimo si può crescere insieme io sono abbastanza ottimista secondo me wikipedia italiana quando è partita ha fatto molti passi avanti è chiaro che puoi trovare di tutto però si vede l'evoluzione io sono ottimista sul futuro mi piace che questo science cam finisca con una sorta di unione di questi due mondi i blog scientifici e wikipedia se ne accessi qualcosa non sarebbe male volentieri molto volentieri sulla scienza sì sì altra pubblicità ho lanciato esiste ancora anche se mezzo moto il progetto verificabilità scientifica su wikipedia ferrero fate anche wikipedia lombarda cioè fate anche wikipedia l'elettrona ci sono altre domande perché sono le otto e probabilmente a un certo punto noi dovremmo andare tipo a cena in un posto caldo possibilmente ci sono domande dal pubblico no qualcuno vuole ancora dire qualcosa direi di no dichiaro chiuso il primo science camp Peppe vuoi dire qualcosa tu che sei l'organizzatore principale che sei ancora io posso solo ringraziare chi è avuto la pazienza di venire fin qua noi che abbiamo esperienza di riva sappiamo quanto è difficile abbiamo sottoposto tutti i relatori a un viaggio un po' complicato vi ringrazio tutti spero che qualcuno abbia un po' apprezzato diciamo questa questo piccolo mondo dei blog di scienza che c'è in Italia è un mondo veramente piccolo rispetto alla quantità di parole che si spendono in buona parte inutilmente in rete qui ci sono alcune parole utili l'unica cosa che vi posso dire è invitarvi a leggerli più di questo grazie a tutti alla prossima se ci sarà ciao grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti